Sindaco Maio, devo spedire una lettera, dove vado? Questo almeno fino a qualche giorno fa poteva essere la domanda che i cittadini potevano rivolgere a Fabrizio Turba, sindaco di Canzo, visto che l'ufficio è momentaneamente chiuso per lavori, mi pare, e quando si riaprirà non si sa, ma comunque abbiamo portato a caso qualcosa di importante. Vogliamo dirlo a tutti i cittadini? Sì, grazie all'intervento comunque congiunto, anche della stampa, il pressing che abbiamo fatto alle poste a livello centrale a Como e quindi alla fine alla collaborazione, perché alla fine siamo riusciti ad avere una collaborazione. Penso nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, adesso dobbiamo risolvere qualche problema tecnico, siamo riusciti ad ottenere un ufficio postale mobile, stiamo già verificando dove allocarlo e sembrerebbe che la posizione più idonea sia quella all'interno di Villa Granpelli, perché questo è un furgone, essendo estate, fa caldo, per cui potete immaginare la temperatura che può raggiungere in una situazione del genere, quindi in posto all'ombra, con la corrente e dando anche all'operatore un servizio elenico che potrebbe essere quello della struttura del comune. Per cui penso a breve il comune di Canzo avrà uno sportello, quindi un ufficio postale. Colgo l'occasione per fare comunque un appello, sicuramente ci saranno dei disagi. La nostra richiesta è stata soprattutto per le persone anziane, perché non è ammissibile, non è possibile che si chiuda uno sportello in un comune di più di 5.000 abitanti e che si possa, e si dica, bisogna andare a asso piuttosto che bisogna andare a erba. Finalmente con le poste siamo riusciti a trovare un punto di incontro. L'appello è che chi può non intasi questo ufficio mobile e lo lascia a disposizione degli anziani. Sarà un ufficio completo con l'orario normale dell'ufficio postale di Canzo. Questo disagio penso che duri fino alla metà di ottobre. Comunque siamo riusciti a ottenere un risultato. Ancora ricordo quando l'ufficio postale di Lecco era interessato a grossi lavori di strutturazione, alla piccola, come viene chiamata Lecco, la zona del mercato, avevano messo questo ufficio mobile e la gente all'inizio aveva qualche rifidenza, chissà perché, ma nel giro di pochi giorni hanno capito che era un ufficio come tutti gli altri, solo un po' più piccolo, solo un po' più spartano. Ecco, questo sì, la stessa cosa penso che capiterà a Canzo, perché il problema nel nostro territorio, Asso, ci risulta che in questo momento è stato congestionato dalle utenze di Canzo e erba risulta inutilizzato. Penso che succeda così anche a Canzo. Sicuramente, ripeto, qualche disagio ci sarà, però ci sembra una buona soluzione, un buon compromesso nell'attesa della ristrutturazione totale dell'ufficio postale.